Non credo che l'aria che si respira in questo momento a Milton Keynes sia esattamente delle migliori, anzi molto probabilmente stanno facendo di tutto per fare in modo che la situazione si risolva appunto con l'allontanamento del top manager. Un grandissimo peccato per Red Bull perché di fatto lui è stato quello che ha accompagnato il team sin dall'origine verso grandissimi successi sia nei mondiali piloti ma in quelli costruttori, ma evidentemente quello che è successo e di cui non sappiamo ancora nulla ma si saprà sta generando dei casini abbastanza importanti, non solo in casa Chris Horner dove Jerry Ellwell ha detto che non riesce a dormire, povera Spice mi spiace davvero non sto scherzando, non sono cose piacevoli di sicuro, allo stesso tempo ho visto anche Chris Horner abbastanza moggetto nel corso delle conferenze stampa e posso immaginare che al netto del fatto che comunque la macchina dà grandi soddisfazioni in pista però da un punto di vista direzionale il fatto di avere un casino di questo genere in azienda posso immaginare che possa creare anche degli scompigli per quanto riguarda a lotte di potere ma b anche gestione del pratico a livello direzionale da qui a tre mesi in avanti, quattro, cinque, sei mesi in avanti, quindi prossimamente posso immaginare dal momento in cui Chris Horner sarà costretto a lasciare l'azienda ci saranno comunque delle attività di ribilanciamento di tutte le questioni, non credo che Marco prenda in mano la faccenda però realmente bisogna trovare A un successore e B comunque bisogna portare avanti la stagione che non è fatta solamente di brum brum, di gare in pista dove sono abbastanza a posto perché la macchina va, gli ingegneri ce l'hanno e il pilota va come una lippa però realmente c'è anche da gestire tutta quella serie di attività che fanno parte anche del rapporto con la federazione, con tutti gli sponsor, eccetera, eccetera, che da domani in avanti ti portano poi ad essere ancora, perché no, il team Red Bull Zac Brown, mancava solo che gli adesse una coltellata nel corso della conferenza stampa non si potevano vedere, immagino già prima, ma sta roba non gli è piaciuta moltissimo e devo dire che anche un'altra azienda americana, non che la McLaren sia americana ma di fatto la proprietà di Zac Brown che è americano, ha parlato di correttezza parlo di Ford che dal 2026 dovrebbe far parte di quello che è la partnership appunto con Red Bull dovrebbe pagare sostanzialmente i motori Red Bull Technology che svilupperà i prossimi motori di prossima generazione per conto di Ford mettiamola così, quindi svilupperanno i motori internamente lì a Milton Keynes e poi li venderanno a livello di sponsorizzazione alla Ford ma in realtà Farley, che è l'amministratore delegato di Ford non l'ha presa benissimo anche lui e alla stregua di quello che ha fatto Zac Brown ha tirato una bella coltellata non so se i due si stanno parlando evidentemente per spostare budget da una parte all'altra anche se in realtà Ford dovrebbe farsi il motore da sola potrebbe anche essere che se lo facciano, è un'azienda grande ha tutto il potenziale per farsi anche il motore internamente però in realtà vorrei leggervi le declarazioni appunto di Farley come abbiamo indicato in precedenza senza una risposta soddisfacente i valori di Ford non sono negoziabili è imperativo che i nostri partner di gara condividano e dimostrino un impegno genuino verso questi stessi valori io e il mio team siamo a disposizione in qualsiasi momento per discutere della questione continuiamo a insistere a sperare in una risoluzione che possa essere sostenuta da tutti allo stesso tempo tuttavia siamo frustrati per la mancanza di trasparenza sulla questione questione che Red Bull avrebbe dovuto condividere con noi partner aziendali attendiamo dunque il resoconto completo allora Ford si sente già partner di Red Bull Racing in realtà sulla macchina c'è ancora scritto Honda c'è ancora scritto HRC quindi non c'è ancora a parte il comunicato ufficiale una vera partnership tra le due aziende la partnership inizierà dal 2026 posso immaginare che magari ci stanno anche cacciando dentro dei soldi per sviluppare il motore appunto del 2026 o comunque stiano partecipando a quelle che possono essere le riunioni ma il ruolo di Ford in tutto questo è di partnership fondamentalmente esattamente come ha fatto l'Alfa Romeo con Sauber che sponsorizzava la Sauber comprando i motori dalla Ferrari e girandoli ad Inville stessa cosa farà anche Ford quindi compra i motori da Red Bull ci mette l'adesivo sopra e diciamo li fa correre con l'adesivo sulla macchina sicuramente c'è più partnership da un punto di vista anche di comunicazione quindi comunque ci vuole un certo tipo di trasparenza ci vogliono i valori Ford anche chiaramente all'interno del team motore che tra l'altro hanno già avuto all'inizio dell'avventura perché Red Bull Racing di fatto era la Stewart che poi è diventata la Jaguar quindi sempre Jaguar allora in ambito Ford e poi è diventata Red Bull il primo anno se non ricordo male i primi due o tre stagioni l'hanno fatto con i motori della Ford prima di passare a Renault sai che non mi ricordo se hanno avuto i Ferrari forse l'ha avuto solo la Torra Rosso il Ferrari non me lo ricordo se anche Red Bull l'ha avuto o no ma comunque di fatto non è importante questo l'importante sta nel fatto che la difficoltà appunto di trasmettere valori da parte di Red Bull in questo momento è un tema che riguarda la FIA che riguarda la Formula 1 che riguarda Ford evidentemente sono seccati di questa situazione riguarda ovviamente anche Red Bull che deve rispondere un po' a tutti deve rispondere anche a Chris Horner perché se lo dovessero allontanare essendo lui azionista del team cash quindi non so quanto cash ma tanto perché comunque ha delle grandi azioni all'interno del team quindi non è un casino da poco da risolvere ci credo anche che ci sia scarsità di trasparenza perché o se inventano la storia dell'orso e fanno passare diciamo in cavalleria tutta una questione oppure devono comunque trovare un modo per uscirne vivi tenendo Chris Horner o devono trovare un modo di uscirne vivi allontanando Chris Horner appunto pagando e vedendo di girare la situazione in modo migliore però è una situazione non facilissima e per quello che c'è mancanza di trasparenza capisco Ford capisco Zac Brown capisco la federazione capisco tutti posso immaginare che Ford stia anche cercando lavorando su un piano B magari perché no con Zac Brown quindi di fatto magari fa concepirsi un motore in casa del resto qualcuno sicuramente la dirigenza avrà detto noi siamo a Ford perché dobbiamo farcelo fare da Red Bull il motore che senso ha è amico mio te costa meno questo è il suo discorso se hai sulla macchina migliore comunque hai i progettisti migliori è chiaro che due idee su come fare i motori se le sono fatte questi anni con Honda e stai tranquillo che lì dentro il motore te lo fanno anche buono però va detto anche qualcuno va detto scusi ma noi siamo la Ford siamo un'azienda delle macchine soprattutto però anche dei motori penso che magari un motore partendo da zero con il regolamento 2026 possiamo anche teoricamente farlo hanno anche avuto esperienze recentemente nel racing per intenderci hanno vinto anche la 24 di Le Mans nel 2016 se non ricordo male 17 comunque l'ha vinta un paio di volte o una volta se non ricordo comunque con la Ford GT però detto questo insomma hanno avuto esperienze racing hanno idea più o meno di dove si va a parare col fumo nella realizzazione di un motore da corsa ed è chiaro che Farley ha l'idea così di rivedere tutta la faccenda perché ovviamente va ad intracciare i valori di un'azienda multinazionale che comunque soprattutto in America è molto attenta a tutto quello che è il tema appunto del rispetto tra le persone vero o finto che sia però ci sono delle tematiche che chiaramente sono legate a queste questioni che soprattutto in America sono anche molto forti sono tematiche che in realtà portano anche a delle situazioni assurde in America nessuno prende l'ascensore da solo con una donna davvero non sto scherzando questa cosa accade perché c'è il rischio di venire denunciati di molestie sessuali di brindanzi di tutte queste robe qua temi assurdi che non voglio neanche dibattere all'interno di un video di questo genere qua ma realmente poi ci sono tutta una serie di tematiche tutta una serie di mondi tutta una serie di approcci che ovviamente fanno parte della società moderna di oggi e chiaramente parlano anche di un universo come quello di Ford che ovviamente deve rispettare seguire anche i flussi comunicativi anche i flussi comunque di rispetto interpersonale tra le persone che va sicuramente a primo posto in ogni cosa e questo ovviamente non fa il paio con quello che sembra aver fatto Chris Horner del resto nessuno lo sa ed è per questo che tutti chiamano trasparenza ma in realtà fino a quando non decideranno una versione reale fin quando non si metteranno d'accordo probabilmente con le versioni tra la dipendente tra Chris Horner e tra tutte le persone è chiaro che poi alla fine della fiera ci sarà tutta quella serie di elementi che non faranno trasparire trasparenza nel contesto invece di un'operazione che trasparenza effettivamente Farley ha ragione la chiama come del resto ha ragione anche Zac Brown a chiamare trasparenza non vorrei però che nel gioco della trasparenza ci fosse il gioco di dire vieni da noi che siamo trasparenti signor Ford mister Farley perché effettivamente questa cosa ci potrebbe stare Zac Brown probabilmente si è stufato di pagare i motori alla Mercedes e questa potrebbe essere effettivamente il momento giusto per portarsi a casa la Ford visto che considerato che la Honda se l'ha portata a casa l'Aston Martin e Red Bull avrebbe bisogno comunque di un altro partner per i motori ma fatto come è fatta quell'avventura lì ovvero se fanno loro i motori in casa e li rivendono magari un altro partner che non è la Ford lo trovano però bel casino a livello internazionale vediamo come si risolverà tutta sta faccenda con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare su Youtube su Facebook naturalmente su Automoto.tv per la passione per l'auto e per la Formula 1 e full gas così sempre che casino che se l'ha i Milton Keyes paura